I 5 milioni allenatore del Milan Enrico Sacchi, ricordato da tutti i finalisti come allenatore più vincente ha vinto ben 8 trofei di cui 6 a livello internazionale ha allenato forse il Milan più forte di tutti i tempi con i vari Baresi, Van Basten, Rijkaardt e Gullit Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid e tra i migliori della storia del calcio con il rossonere ha vinto due scudetti, una supercoppa due coppe dei campioni, due supercoppe e due coppe intercontinentali Fabio Capello, lui ha vinto più di Sacchi con ben 9 titoli a referto fu preso nel 1986 per sostituire l'idolm lui era la prima esperienza assoluta come tecnico ma Big Fabio si dimostrò subito d'altezza vincendo ben 5 scudetti di fila Massimiliano Allegri, proprio a ciughina riuscì a spazzare via l'Inter che stava dominando il campionato da parecchi anni, con Ibra, Robigno, Pato e Bodeng raggiunse ben 84 punti Nereo Rocco, l'allenatore che per più anni si è seduto sulla panchina rossonera ha collezionato 241 vittorie in 456 partite venne ricordato per aver portato in Italia il catenaggio seguimi per altri contenuti simili